Hanno giampato? Che vuol dire vai hanno giampato? In che senso? In che senso hanno giampato il gambrone? Poverino ragazzi, ma che c***o fanno in giro? Che palle! Furto! Fai vedere Andiamo a vedere Con sottofondo natalizio Parla, parla Buonasera a tutti i ghiaccioli reietti, vabbè pure a tesimo, gargancio Raga, ma hanno appena bruato il telefono, un secondo È una gag? Ha gheggato? Ha gheggato o era reale? Vabbè, voi l'avete seguito, io non l'ho seguito per niente Perciò sa voi, dimmi se effettivamente era una gag oppure no È real? Eh, ci sta Cioè, ci sta Fa content, no?